Ciao! Potreste pensare che abbia messo GTA 6 nel titolo per fare visualizzazioni, e in parte sarebbe così, però quest'oggi ho preparato un discorso serio che vi invito ad ascoltare. Si continua a discutere sulla data di uscita di GTA 6, si continua a discutere su quanto potrà mai essere un capolavoro, e indubbiamente sarà un capolavoro visto che anche Red Dead Redemption 2 è stato un capolavoro, ma GTA 6 Online sarà veramente un capolavoro come GTA Online? So che non ve ne frega un cazzo di Red Dead Redemption 2, ma aspettate un attimo, serve per ciò che vi voglio dire. Red Dead Redemption 2 comunque è un gran giocone, è ovvio che sia stato eletto come gioco dell'anno, però se Red Dead Redemption 2 è stato eletto gioco dell'anno, Red Dead Online dovrebbe venire eletto come gioco dell'anno! Ci credete se vi dico che non apro Red Dead Online da almeno un mese? Almeno eh, sarà probabilmente anche di più, ed è una delusione per me, per il semplice fatto che lo aspettavo da tantissimo, aspettavo un sacco Red Dead Redemption 2, storia, ovviamente per tutti i misteri eccetera eccetera, ma aspettavo anche un sacco Red Dead Online. In questi giorni però ho visto un video di un americano che parlando di Red Dead Online passava poi a GTA 6, ed effettivamente mi è venuto da pensare ma... se stanno lavorando in questo modo su Red Dead Online, beh, potranno lavorare allo stesso modo su GTA 6. La prima cosa che mi viene da pensare è che se Red Dead Online è stato rilasciato in beta, anche GTA 6 probabilmente verrà rilasciato in beta e questo può essere da una parte una buona cosa, ma se poi resta in beta per un sacco di tempo il gioco non è più una buona cosa. Da come sto vedendo che stanno andando le cose, Rockstar Games vuole mettere beta non perché il gioco sia in beta, perché Red Dead Online non è in beta, GTA 6 Online quando uscirà, non sarà in beta, ma probabilmente metteranno sto beta alla fine di GTA 6 Online perché così saranno giustificati a fare qualsiasi cosa, perché i giocatori dicono eh, ma questa è una beta, eh, dobbiamo aspettare. Sì, è una beta, ed è una cosa che dicevo anche io, ma cavoli, è una beta che dura per mesi, dopo l'uscita effettiva del gioco poi. E per quanto riguarda Red Dead Online, la scritta beta mi sembra essere stata messa lì solo per giustificare qualsiasi tipo di errore, e il bello è che molti giocatori lo fanno. Dicono eh, ma è una beta. Giustificano, capite, giustificano il fatto che sia una beta. Non è giustificato, il gioco è uscito così ed è uscito finito. Come uscirà anche GTA 6 Online, bello che finito. Perfetto, non ci metti beta solo per giustificare gli errori. Ciò di cui ho paura soprattutto è che GTA 6 Online sarà vittima della negligenza di Rockstar Games, perché questa è solo negligenza. Secondo me vogliono fare soldi molto velocemente senza curare tanto il gioco. Semplicemente perché dicono vabbè, abbiamo la base del single player. Che cazzo ce ne frega? GTA Online, quando uscì, eccetto per quanto riguarda i soldi perché c'erano un sacco di glitch per i soldi eccetera eccetera, era un gioco bello che finito. C'era poca roba, va bene, perché era un gioco che era appena uscito. C'erano alcuni baddini, ma niente a che vedere con Red Dead Redemption Online. E spero che l'online di GTA 6 sarà come l'online di GTA 5, in cui magari si troveranno glitch per i soldi, ma in cui non ci saranno gravi problemi. Come ho detto però spero che Rockstar Games non penserà beh, abbiamo il single player di GTA 6, chi se ne frega dell'online, facciamolo alla meno peggio, facciamolo per fare soldi. Voi sì, dovete pensare a fare soldi ovviamente, ma cavoli, ne farete miliardi con GTA 6? Pensate un attimo di più a curare il gioco invece che fare solo soldi. Anche perché se il gioco è ben curato, i soldi vengono da sé. Magari all'inizio compreranno un sacco di persone le Shark Cards, perché sicuramente ci saranno le Shark Cards su GTA 6, come è successo per Red Dead Online, in cui un sacco di persone hanno acquistato ovviamente denaro di gioco, io compreso. Ma poi la gente se si dimentica del gioco, non ti acquista il denaro di gioco, non ci gioca il gioco! E questa negligenza la possiamo vedere anche da un sacco di aggiornamenti di GTA Online. Ci sono un sacco di problemi negli aggiornamenti, che non sono tanto visibili, ma questi problemi ci sono, che poi vengono appacciati in un altro discorso. Però GTA Online ha una base, GTA Online è quello che è, c'è già la base di GTA Online, ok? Tu puoi essere negligente con gli aggiornamenti, perché tanto la base c'è, i giocatori ci sono, e tanto giocheranno lo stesso per gli aggiornamenti. Ma Red Dead Online non ha una base, è una base che va creata. Il single player di Red Dead Online, ossia Red Dead Redemption 2, non è una base sufficiente per quanto riguarda Red Dead Online. Come GTA 6 single player non sarà una base sufficiente per quanto riguarderà l'online di GTA 6. Ci dovrà essere una base per l'online, capite? Ci deve essere una base anche per l'online. Non puoi dire, vabbè, c'ho il single player, quella è la base, fine. Col cazzo! Perché abbiamo visto com'è finito Red Dead Redemption 2. Hai bisogno di un account mandato di GTA Online per PS4 o PC oppure di un'aggiunta di denaro? Passa da GTA Cash, link in descrizione. I prezzi su GTA Online all'inizio non è che fossero tanto esagerati, però c'erano un sacco di problemi nel guadagnarsi dei soldi. Adesso ci sono un sacco di possibilità di guadagno, però i prezzi, ovviamente per forza di cose, sono aumentati. Ma non sono aumentati così tanto a dismisura. C'è stato un periodo in cui stavano veramente aumentando un casino, però poi diciamo che si sono assestati. I prezzi per i veicoli, infatti, adesso non è che siano poi così tanto assurdi, vedendo le possibilità di guadagno. I prezzi dei vestiti va bene, sono un altro conto perché ci sono vestiti che costano mezzo milione di dollari, però quello è un altro discorso. Però i prezzi su GTA Online si sono comunque assestati, a differenza dei prezzi di Red Dead Online. E questo è gravissimo, perché la stessa cosa potrebbe accadere su GTA 6. Questo fa pensare a quanto Red Dead Online e GTA Online siano due mondi completamente separati. E quanto GTA Online, in realtà, per quanto riguarda l'economia, si è bilanciatissimo! Ora voglio porvi una domanda. Perché GTA Online è stato questo gran giocone già dall'inizio? Ok, adesso è un giocone lo stesso, anzi è diventato molto meglio, secondo me, GTA Online col tempo. Ma perché già all'inizio era un giocone? Non perché si potevano acquistare case, perché si potevano acquistare auto, perché si poteva giocare con gli amici, perché si potevano fare missioni, sia in singolo che con gli amici, eccetera, eccetera. No! Per il semplice fatto che, secondo me, era una novità. Per quello è stato questo gran giocone già dall'inizio. Se no, se non fosse stata una novità, probabilmente non è che sarebbe interessato tantissimo, perché GTA 6 Online appena uscirà, non è che sarà questa grande novità, e non è che interesserà poi tantissimo. Bisognerà cercare qualcosa per far interessare le persone al comparto online di GTA 6. Come ad esempio mi viene da pensare, è stato GTA 4 rispetto a GTA San Andreas. È stato un gioco nuovo, va bene, aveva la grafica bella per l'epoca, va bene, ma rispetto a San Andreas aveva molte cose in meno. Non si potevano nemmeno pilotare gli aerei. GTA 4, per carità, per la storia è stato un giocone. Per quanto riguarda l'online, è stato un gioco, diciamo, discreto, va bene. Non è che fosse questo gran capolavoro, perché non è che ci fossero queste grandi modalità. Però è stato un gioco discreto, e c'era comunque un multiplayer supportato ufficialmente, c'era una free mode supportata ufficialmente, si poteva giocare con altre persone all'interno del mondo di GTA 4, e quindi è stato molto bello. Ma adesso in generale, non per quanto riguarda Rockstar Games, ma in generale, per un gioco open world, non è poi facilissimo fare un comparto online degno di nota. Per il semplice fatto che è uscito GTA Online! GTA Online è rientrato uno standard ormai, la gente l'ha visto, non è che pensa, eh, ma... oddio, questo gioco è veramente una gran novità. No, perché c'è stato GTA Online, è difficile fare una novità. GTA Online, che se ne dica, è diventato sicuramente molto meglio col tempo, e la stessa cosa probabilmente sarà con GTA 6. GTA 6 partirà in un certo modo, poi col tempo migliorerà sicuramente con gli aggiornamenti, questo è poco ma sicuro. Però il problema è che, come è successo con Red Dead Online, dovrà esserci qualcosa che entrerà nei cuori dei giocatori. Fine! Quello deve essere, perché altrimenti uno se ne dimentica subito. Sì, è un gran giocone, per carità, però poi... e io sono il primo a dire che GTA Online è sempre la stessa cosa, non è che GTA Online si evolva, per carità, non è che su GTA Online venga aggiunto chissà cosa. Sono sempre quelle le cose, vengono aggiunti veicoli, vengono aggiunte possibilità di guadagno, però non è che siano chissà cosa. Però GTA Online ha già la sua parte di pubblico affezionata. Io arrivato a questo punto ho sinceramente paura per quanto riguarda GTA 6, perché se GTA 6 sarà peggio di GTA Online, beh, sarà comunque un giocone, per carità, però sarà peggio di GTA Online. Un gioco che a quel punto sarà uscito 10 anni prima, un consiglio che mi verrebbe da dare a Rockstar Games per quanto riguarda i guadagni è non aumentare i prezzi della roba all'interno del gioco, ma mettere acquistabili i personaggi già pronti, il personaggio a rango massimo, pure il personaggio a rango minimo indispensabile per avere tutto, il personaggio con l'abilità, il personaggio con tot soldi, con tutto sbloccato, eccetera eccetera. In questo modo, uno, previni il modding, due, guadagni di più e tre, non serve commenti i prezzi all'interno del gioco, perché tanto la gente comprerà questi, non lo so, questi personaggi, questi account già moddati tra virgolette, semplicemente per avere il personaggio pronto, capisci? Uno non vuole spendere, va bene, c'è il personaggio in cui deve sbloccare le cose, in cui deve aumentare con l'abilità, eccetera eccetera, uno vuole pagare, c'è il personaggio bello che è pronto, perché io non voglio star lì a dovermi fare l'abilità per mirare meglio, ma che cazzo me ne frega? Io non voglio stare lì a farmarmi il rango per avere più vita, no! Per carità, su GTA Online, anche se hai un personaggio di rango 1, riesci a vincere contro la maggior parte delle persone che c'hanno i personaggi di rango 120 e oltre, se sei bravo. Però cavoli, se io trovo una persona che ha comunque il mio stesso livello di abilità, che poi non è che serva così tanta abilità, però se trovo una persona che ha il mio stesso livello di abilità, ma mazza, è ovvio, c'ha più vita, che cazzo devo fare? E questa cosa, al contrario di quanto potrebbero pensare molti, potrebbe essere una grossa, grossa novità e un grosso, grosso vantaggio. Per il semplice fatto che uno, come me, che non vuole stare lì a farmarsi il rango, si trova il personaggio col rango già pronto e può stare lì a concentrarsi sui soldi, a fare i soldi! E uno non deve magari stare lì a pensare, oh, aspetta, siccome sto facendo soldi in free mode, perché la cosa migliore per quanto riguarda questi giochi è far fare soldi in free mode, come si è visto per GTA Online, beh, se arriva quello che ha rango più alto di me, sicuramente mi ammazza. Perché potete dire quello che volete, ma non gioco open world, la cosa migliore è fare i soldi in free mode, non in missione! Invece no, devo stare lì ad annoiarmi e a perdere tempo, ad aumentare di rango invece che a fare soldi, perché se no perdo contro gli altri giocatori e magari devo stare lì a fare quella precisa attività, in loop forse anche, per aumentare di rango più velocemente, invece che stare a pensare, appunto, a fare soldi! Ragazzi, sinceramente, secondo me, con questi presupposti, GTA 6 ha un grande potenziale per diventare una grandissima delusione, però vedremo, spero di sbagliarmi, eh, spero assolutamente, spero che Rockstar Games applicherà idee simili, non dico che debba applicare le mie idee e non dico che se le applicerà le avrà copiate da me, eh, magari ci avrò visto giusto, semplicemente, non è che Rockstar Games copierà da me, assolutamente, però spero farà qualcosa di nuovo, non come Reddit Online. Per questo video direi che è tutto, vi ringrazio per avermi seguito finora e noi ci rivediamo, alla prossima!